WWF Abruzzo e l'Istituto Abruzzese Aree Protette insieme sul tema un futuro per le aree naturali protette regionali, un futuro per l'Abruzzo. Nell'occasione viene anche presentato un convegno che ci sarà. Qual è il futuro intanto delle aree protette? Il futuro delle aree protette oggi è un po' incerto, diciamo, ci sono delle nuvole all'orizzonte. Noi cerchiamo con questo decalogo di stimolare la regione Abruzzo a migliorare e adattivare alcune politiche e rimettere al centro soprattutto le aree protette nelle politiche della regione Abruzzo. Ci sono cose che si possono fare che non richiedono dei grossi investimenti, ma semplicemente nel fare rete e nell'unire quelli che sono gli sforzi, cercando di andare a ottimizzare le risorse che si investono, valutando anche l'efficacia e l'efficienza. Vista di questa prima conferenza regionale delle aree protette, qual è l'obiettivo del convegno? L'obiettivo intanto è portare il lavoro che è stato fatto in questi due mesi nelle Oesi con le comunità, con gli amministratori, con i cittadini, con i professionisti, con gli operatori economici che vivono all'interno delle aree protette e quindi abbiamo raccolto e costruito insieme questo documento. non è solamente frutto del WWF, ma è un lavoro condiviso e appunto è uno stimolo e un contributo alla conferenza regionale per cercare appunto di mettere a quadro e a fuoco quelli che sono i punti su cui si può lavorare insieme, su cui si può fare rete e migliorare.